stacco non stacco allora è oggi è il primo novembre questo giovanni è appena un film appena uscito una lotta con l'alpe categoria della via a2m prendi e spera affidamento alla madonna holy madar vetta del reo passo adesso scriviamo anche il libro di vetta il silo no e va bene non avevo dubbi che chissà le foto di giovanni come saranno venute a testimonianza abbiamo fatto la via dell'amicizia roccia discreta ambiente severo insomma nel complesso a2m a volte a3m anche sul bagnato però insomma va bene ok tu non dici nulla no io sono contento sei contento un po di mannipè basta averte le robe americane bravi bravi ottimo